Cassonetti intelligenti primo mese di bilancio positivo. Ricci indica le 10 regole per far ripartire il PD. Frode nel tessile di lusso nove indagati e sequestri. Dopo l'era Rossini il liceo Marconi riparte dal preside testa. Pesaro avrà una sala dedicata ai funerali laici. Buona serata a tutti voi pubblico di Rossini TV e ben ritrovati a Rossini News il telegiornale del canale 80. Oggi è giovedì 24 di novembre e esattamente un mese fa il 24 ottobre il centro storico di Pesaro o perlomeno parte di esso ha abbandonato la raccolta dei rifiuti porta a porta in favore della novità dei cassonetti intelligente. Ad un mese da questa rivoluzione nello smaltimento dei rifiuti abbiamo tracciato un primo bilancio con l'assessore all'operatività del comune di Pesaro Enzo Belloni. Siamo a un mese esatto dall'introduzione di nuovi cassonetti intelligenti nel centro storico, in una parte del centro storico. Che bilancio si sente di fare? Al momento devo dire bilancio estremamente positivo. C'è stata grande educazione da parte della comunità, non abbiamo rilevato particolari criticità, magari può succedere che uno un pochino più maleducato degli altri lascia un sacchetto in giro, però devo dire che gli abitanti coinvolti in questa sperimentazione hanno risposto favorevolmente e in maniera molto civile anche. Anzi ci stanno chiedendo quelli che al momento sono fuori dalla zona di sperimentazione quando arriveremo anche da loro. Ovviamente assieme a Marche Multiservizi stiamo provando a darci dei tempi per proseguire questo, che non sarà più una sperimentazione, ma questo metodo di raccolta dei rifiuti in centro. Le zone coinvolte saranno altre tre perché il centro storico è stato diviso in quattro fasce, complessivamente dovremmo installare altri 18 contenitori e la criticità che si è manifestata ovviamente è quella dei posti auto che peraltro stiamo sistemando, abbiamo avuto un po' di difficoltà nel fare le altre sette stalli gialli riservati ai residenti perché è sempre piovuto e ovviamente ci deve essere l'asfalto asciutto per segnare sulla strada. Comunque devo dire grazie a Marche Multiservizi che ha creduto da subito nella nostra proposta e grazie ai cittadini che hanno risposto in maniera positiva e ci auguriamo da qui ai prossimi mesi già di partire con gli altri step. Ecco, altre tre aree verranno coinvolte. Ricordiamo qual è l'investimento complessivo del Comune. L'investimento complessivo è stimato attorno al 1.200.000 euro perché questi cassonetti che sono 24 ipotizzati per il centro hanno un costo di circa 50.000 euro l'uno. Questo primo step ha già impegnato l'azienda per 300.000 euro però è una di quelle operazioni che vale la pena fare. Ed ora parliamo di politica. Al momento c'è soltanto il governatore dell'Emilia Romagna Bonacini quale candidato ufficiale alla prossima segreteria nazionale delle PD. Però il nome del sindaco di Pesaro Matteo Ricci resta fra quelli maggiormente in odore di altrettanta candidatura. Ricci, molto coinvolto nei lavori di ripartenza del PD e anche nell'attuale Assemblea Nazionale Anci ha convocato una conferenza stampa per sabato a Roma nel circolo del PD San Giovanni in cui fornire 10 idee per il nuovo PD. Il sindaco di Pesaro prepara dunque i primi spunti programmatici per la fase congressuale. Idee proposte che sono state raccolte in settimane di ascolto in giro per la provincia italiana. Lo stesso Ricci attraverso i propri social ricorda Siamo in campo per un nuovo PD, per la forza di riscatto sociale, per una sinistra veloce e il benessere equo e sostenibile. Ed ora passiamo alla cronaca. È stata chiamata Helpful, l'operazione della Guardia di Finanza di Fano che ha portato ad indagare 9 persone per reati in maniera fiscale e fallimentare nelle quali sono stati distratti ben 4 milioni di euro. Scoperta una lunga serie di reati fiscali e fallimentari. La Guardia di Finanza di Fano ha eseguito un provvedimento di misura cautelare personale che ha imposto ad un indagato anche il divieto di dimora nel comune dove hanno sede le attività imprenditoriali che lui stesso svolgeva. Le indagini hanno infatti accertato il coinvolgimento di numerose società e persone fisiche operanti nel settore tessile di lusso coinvolte in un sistema illecito che era stato congegnato per realizzare in maniera sistematica operazioni economiche finalizzate a svuotare il patrimonio di società inattive e destinate al fallimento a vantaggio di nuove realtà aziendali. Le investigazioni hanno consentito di individuare l'attore principale delle condotte fraudolente che era pure a capo di tutte le società e tutti i componenti del sodalizio criminale costituito da familiari, consulenti e dipendenti tutti disposti ad agire come prestanome con il fine ultimo di trarre un illecito profitto personale realizzando più condotte di bancarotta fraudolenta. Condotte che hanno determinato sia il depauperamento del patrimonio sociale distraendo e dissipando beni per circa 4 milioni di euro sia l'inadempimento delle obbligazioni tributarie e prividenziali inadempienze per le quali per il momento è stato eseguito un sequestro preventivo per equivalente per l'importo di 47 mila euro corrispondente alle contribuzioni non versate. Ed ora passiamo a parlare del liceo Marconi di Pesaro che dopo 12 anni non ha più come preside Riccardo Rossini. Il nuovo dirigente scolastico infatti da qualche mese è Luca Testa che andiamo a conoscere meglio in questa intervista realizzata da Edoardo Razzi. Siamo a quasi tre mesi del suo insediamento in questo nuovo liceo per lei come si sta trovando? Io mi sto trovando molto molto bene devo dire che è un liceo straordinario pieno di iniziative, pieno di progettualità è un liceo da una grandissima storia e io spero di poter continuare sul solco dei miei predecessori a contribuire a fare grande un liceo che di per sé è già grande è un liceo molto rodato ha delle organizzazioni come macchina proprio una macchina da guerra potremmo dire per cui è una struttura che funziona benissimo ciò nonostante io cercherò dal canto mio di aggiungermi alle grandi professionalità e le competenze del corpo docenti e del personale ATA insieme con la grande voglia di fare che contraddistingue i nostri alunni ecco tutto insieme sicuramente si potrà vedere si potrà mirare a un futuro migliore sicuramente così come lo è stato in questi anni è un grande onore per me poter dirigere questo liceo e soprattutto poter apportare quelle che sono state insomma quelle che sono le mie competenze frutto di una carriera non indifferente una carriera musicale quindi sicuramente metto a servizio di tutti a servizio della comunità pesarese queste mie competenze e quindi Pesaro città della musica Pesaro città della cultura 2024 e sicuramente insieme con l'amministrazione comunale ci saranno delle iniziative che faranno parlare ancora una volta molto bene di Pesaro molto bene del Marconi Tanti progetti anche in futuro qualche novità? Beh allora innanzitutto i progetti già in essere verranno ad essere diciamo così ampliati ovviamente io sono musicista e quindi per il liceo musicale per il liceo coreutico sicuramente ci saranno delle iniziative anche di maggior rilievo a livello non soltanto locale ma anche internazionale Prima ha parlato del musicale ci sono anche altri ambiti c'è quello sportivo quello tecnologico insomma coreutico quindi il liceo scientifico in questi anni si è ampliato e perché non lo potrà fare anche in futuro? Sicuramente sì allora lei ha parlato dello scientifico tradizionale che ovviamente riesce ancora a posizionarsi nelle penso per esempio alle olimpiadi di matematica alle olimpiadi di fisica ma anche agli sbocchi professionali dei nostri ragazzi e consegue sempre dei risultati veramente straordinari qui anche il liceo sportivo ha le sue peculiarità che vengono ad essere valorizzate ogni cello internazionale che è anche una sperimentazione unica in Italia che consente agli nostri iscritti e ai nostri alunni di poter frequentare le tradizionali discipline però tutte erogate in lingua inglese è veramente proiettato questo liceo verso il futuro verso sempre nuovi metodi comunicativi quindi è al passo con i tempi in avanti rispetto a quelli che sono i tempi quindi è veramente proiettato verso il futuro Pesaro avrà una sala comunale riservata ai funerali laici e non religiosi sarà allestito nello scalone vanvitelliano di Piazza delle Monte all'angolo con via della maternità a breve infatti partiranno i lavori di comune Aspes per 25 mila euro volte ad adeguare i locali ad una sala del commiato dedicata a tutte le confessioni e agli atei ripristinando il collegamento interno con la vicina scuola Don Gaudiano per utilizzare i servizi dell'istituto restando in centro storico Pesaro avrà anche un nuovo centro commerciale naturale dopo quello di via Passeri nato nel 2021 ora il progetto vedrà protagonista un'altra storica strada del commercio cittadino ovvero via Castelfidardo l'assessora Francesca Frenquellucci ha infatti annunciato che il comune si è giudicato i fondi di un bando regionale dal valore di circa 50 mila euro che mira a rivitalizzare la competitività economica dei centri storici e urbani attraverso lo sviluppo e l'incentivazione dei centri commerciali naturali quello di via Castelfidardo si chiamerà porta sale e vedrà protagonisti tutti gli esercenti che riuniti in una associazione coordineranno gli eventi e le iniziative organizzate durante l'anno e metteranno in rete i loro prodotti e parliamo della giornata internazionale contro la violenza sulle donne è infatti in programma domani venerdì 25 novembre alle 16.30 il consiglio comunale monotematico di Pesaro donna in dialogo la cultura della parità un appuntamento che si inserisce dunque nelle celebrazioni del 25 novembre ad aprire il consiglio sarà il ricordo della 23enne ucraina Anastasia Alascire vittima del recente femminicidio a Fano il programma del consiglio prevede anche la relazione del centro aiuto alla vita sull'attività del centro antiviolenza parla con noi e quella dell'avvocata Michela Manganelli sul tema la giustizia riparativa e la violenza sulle donne a seguire anche la discussione del documento condiviso per l'istituzione osservatorio pari opportunità presentato dalla consigliera Anna Maria Mattioni e anche la biblioteca Rodari di Borgo Santa Maria per la giornata contro la violenza sulle donne ha organizzato un incontro domani sera alle 20.45 in collaborazione con il punto Unicef di Pesaro la serata dal titolo Parole nel silenzio si aprirà con un testo scelto e introdotto da Lucia Ferrati il marchio da Il giardino incantato di Clarice Tartufari eletto dalle voci dei libri la serata continuerà con interventi a cura di professionisti e volontari Unicef che sono impegnati quotidianamente nel contrastare le violenze e nel supportare le donne che ne sono vittime e in occasione della giornata contro la violenza l'associazione Villa C'è di Villa Ciccolini invita tutti i cittadini a portare un pensiero per le donne alla panchina rossa luogo simbolo del quartiere 4 presso il parco Maria Ceccarini in via Lago di Albano l'associazione infatti vuole riempire l'albero di pensieri positivi contro la negatività di fatti quotidiani che campeggiano nelle croniche sul tema e poi ancora l'Unione Italiana Ciechi e i Povedenti di Peso Robino in collaborazione con Tatiana Campos Tango Academy organizza per domani un evento per abbattere qualsiasi violenza e differenza di genere si esibiranno infatti dei tangheri presenti che saranno accompagnati da racconti artistico-culturali sull'evoluzione storica del tango e la musica dal vivo sarà protagonista per trasportare ogni sensazione in un abbraccio nel quale per la violenza non c'è davvero spazio e cambiamo argomento a Pesaro lo spazio bianco della Fondazione Pescheria in via Zongo 45 inaugura domani alle 18 la mostra evento Raffaele Pisu Matatori Bravagente volta a celebrare 70 anni di carriera del poliedrico ed eclettico artista Raffaele Pisu è stato infatti un prolifico showman attore radiofonico, teatrale, cinematografico comico conduttore incarnando a pieno titolo il simbolo dell'Italia del dopoguerra la mostra di Pesaro si terrà fino al 2 dicembre ed è il primo di una serie di altre iniziative che saranno presentate in Italia e all'estero incentrate sulla figura dell'artista compresa la presentazione di un libro di prossima pubblicazione il progetto è di Genoma Films dei fratelli Paolo Rossi Pisu e Antonio Pisu insieme a Marta Mignucchi ed ora facciamo anche un passo avanti fino al prossimo 30 dicembre quando al teatro sperimentale arriverà un approfondimento molto particolare promosso da Vega Impresa Sociale Allora vi aspettiamo il 30 novembre al teatro sperimentale per un incontro per noi molto importante Vega è un'impresa sociale lavoriamo nel territorio della Regione Marche da diversi anni e da due anni siamo presenti anche nel territorio di Pesaro ci sembrava importante dare un piccolo segnale anche al territorio su quello che per noi è fondamentalmente un tema legato al nostro lavoro cioè la cultura dell'ascolto e della relazione ascolto e relazione sono due parole importanti non è a caso che abbiamo chiamato collaboriamo da anni con Guidalberto Bormolini è un monaco accompagnato Franco Battiato negli ultimi mesi, anni della sua vita con un'amicizia molto importante e verrà proprio a parlare di questo perché l'ascolto, la relazione non è soltanto qualcosa che facciamo nello studio clinico nell'ambito della psicologia, della pedagogia ma è qualcosa che appartiene un po' a tutti allora regalare alla nostra città la possibilità di un confronto con Guidalberto che si occupa anche di accompagnamento del fine vita cioè l'importanza dell'ascolto di accompagnare le persone la relazione come atto di cura ecco in questo incontro parleremo di tutto questo e avremo l'occasione anche di raccontare come Vega nell'ambito di questo territorio offre progetti di prevenzione del disagio e promozione del benessere individuale, familiare e sociale aspettiamo allora il 30 novembre all'ora 21 al teatro sperimentale naturalmente l'ingresso è gratuito perché è un'attività promossa da Vega in collaborazione col comune di Pesaro e la regione Marche sul sito di Vega o anche del comune troverete le indicazioni per la partecipazione gratuita previa prenotazione ed ora invece ci colleghiamo con l'amico Daniele Santinelli del San Costanzo Show che ci ricorda un appuntamento a Pesaro dalle risate garantite cari telespettatori siamo qui in diretta da Pesaro per fare una promozione di questo grande spettacolo che sarà a Pesaro ma chi è questo signore? ma chi è? ma chi è questo? ma scusate devo fare lo spot un attimo solo è lei? è sentinelli sì ma signore è sentinelli ma non è sentinelli vedi che non c'ha quei baffetti da deficit no sono io sono io sono io non si preoccupi è il vecchiatomore ma che mi chiedo voi ti ho tolto i baffi un attimo è molto vecchio è meglio che li rimetti anche la parma la parma è sola che farà crescere senta sentinelli ehi dica sto facendo lo spot cosa fa Pesaro cosa fate di bella? faccio lo spot facciamo lo spot siamo venerdì siamo a Pesaro venerdì spettacolo venerdì 25 siamo a fare Cesare a Gusto ma dove siete? a Loretto scusi un attimo a Loretto a Pesaro io vado solo a Rosini ma cosa dici? al massimo allo sperimentare a Loretto perché è un film c'è uno spettacolo e poi dopo alla fine dello spettacolo ti diamo un film la scoperta del secolo quindi sarebbe un telo cinematografico ma potevate farlo al Duse c'è più il Duse il Nuovo Fiore al Nuovo Fiore c'è più al Bambi vi ho delle vetrini assolutamente no assolutamente no comunque va bene ci vediamo venerdì allora venite anche voi se ci passate a prendere con l'ambulanza noi veniamo fa molto ridere però fa molto ridere molto sempre ridere sempre divertenti sempre divertenti grazie 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 va bene grazie grazie va bene grazie faccia finire per favore amici siamo a Pespa divertenti parliamo di sport e ci occupiamo ora dell'Ital Service Pesaro che torna già in campo domani nella lunga trasferta di Catania steccato alla pallafiera l'obiettivo continuità l'Ital Service Pesaro è costretta a rimettere nel mirino l'obiettivo riscatto ad una settimana dall'indigesta sconfitta interna col Ciampino Agniene per 3 a 4 la squadra di Coccolini vola in Sicilia per la trasferta più lunga della stagione in casa della meta Catania fischio d'inizio previsto per venerdì 25 novembre alle 20 e 30 ai piedi dell'Etna arriva un Ital Service che deve metabolizzare una sconfitta urticante perché al pallafiera venerdì scorso ha girato tutto storto con i gol di Ruan Alflane e Pires a illudere spedendo Pesaro sul 2 a 0 per poi subire la rimonta laziale sul 2 a 4 fino al vano tentativo di rimonta portato dal gol di De Oliveira ad un minuto dal termine che ha fissato il punteggio sul 3 a 4 finale un risultato che porta ora l'Ital Service a Catania con una classifica complicata con 8 punti racimolati in 9 giornate dalle quali sono spremute appena due vittorie a Catania con l'ex Duda Dalcin si cercherà il riscatto in un contesto caldo servirà infatti una grande Ital Service per inseguire una vittoria che riporti soddisfazione a Pesaro e magari riduca il gap con la stessa Catania che attualmente 13 punti in classifica umore molto diverso per l'Ital Service Loreto Basket che nel turno scorso ha stravinto il derby battendo l'Urbanian 94 a 67 al Palla Flaminia è la settima vittoria su sette partite per la squadra di coach Stefano Foglietti che si gode il primato solitario nonostante abbia già scontato il turno di riposo un percorso netto che ora andrà messo alla prova dell'ostica trasferta di Ascoli Piceno sabato alle 18.30 sfida l'Ascoli Basket in salute e reduce da due vittorie di fila e come ogni sera concludiamo il nostro telegiornale con le tante proposte natalizie che arrivano dal nostro territorio quest'anno abbiamo riscontrato una grandissima richiesta di elfi di Babbo Natale come questo che vedete su questo albero che abbiamo preparato perché in America c'è una tradizione molto particolare che sta arrivando anche in Italia e nonché quella di nascondere un elfo ogni mattina all'interno delle proprie abitazioni e quando i bambini si svegliano incomincia la caccia alla ricerca dell'elfo e non possono andare a toccarlo proprio perché l'elfo perderebbe la sua magia ed è molto carina secondo me come iniziativa perché tutti i giorni il bambino si sveglia alla ricerca della magia del Natale e a proposito di magia del Natale abbiamo preparato una serie di iniziative ad hoc per i bambini ma anche per i più grandi e difatti tutti i weekend ci saranno tantissime cose da fare ad incominciare dalla casetta di Babbo Natale tutti i weekend Babbo Natale vi aspetterà all'interno della sua casetta e per tutti i bambini che vorranno fare una fotografia e che vorranno consegnargli la magica letterina inoltre sempre tutti i weekend ci saranno diversi laboratori ai quali i bambini potranno partecipare il primo tra tutti è sicuramente quello della letterina di Babbo Natale dove attraverso l'aiuto degli elfi di Babbo Natale ci sarà la possibilità di scrivere la letterina e poi di consegnarla alla casetta e a Babbo Natale che abbiamo appena visto regaleremo ad ogni bambino un piccolo albero di Natale e lo rinvaseremo in un vaso leggermente più grande questa iniziativa oltre a far mettere le mani nella terra ai bambini ha l'obiettivo di sensibilizzarli sul rispetto della natura eccoci davanti al presepe con figura a grandezza naturale dove tutti i weekend i bambini troveranno un piccolo pony e una dolce cavallina ci sarà la possibilità di fare un giro a cavallo all'interno del santo presepe e di fare anche una foto davanti alla natività e tutto questo in collaborazione con il Pino Rence la novità di quest'anno è la collaborazione con la Zero Limits di Pesaro in via degli Abetti numero 10 che ci ha consegnato dei fantastici trattorini e abbiamo insieme realizzato la Zero Limits Tractor Track una pista per bambini dove cercheranno di arrivare fino all'arrivo attraverso un percorso non facile in sella ha dei fantastici piccoli trattori da spingere o con cui pedalare e per tutti i bambini tanti piccoli animaletti da scoprire come questa dolce gallina moroseta dal suo nome moro per via della pelle completamente nera e seta per il piumaggio particolarmente bianco e morbido oltre le tantissime iniziative che abbiamo appena visto e laboratori e attività per i bambini per i più grandi abbiamo anche un ampio showroom natalizio con tantissime decorazioni alberi palline lanterne lavorate artigianalmente centro tavola e soprattutto tantissime piante perché questa è la nostra natura vi aspetto qui al garden center florio di pesaro perché tutti i giorni sarà natale ma i weekend saranno magici e attenzione perché potrebbe nevicare si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News ma prima di salutarci vi ricordiamo alcuni appuntamenti sulla nostra emittente a cominciare da questa sera a cominciare dall'appuntamento che arriva subito dopo la prima edizione del telegiornale ovvero alle 20 e 10 andremo a approfondire la sedicesima edizione della borsa di studio Guido Paolucci e la quattordicesima edizione del premio Giovani Talenti offerti dal gruppo bancario Riviera Banca appuntamento come detto alle 20 e 10 e a seguire come ogni giovedì sera non perdetevi insieme a canestro appuntamento col basket con gli approfondimenti della Carpegna Prosciutto Pesaro sempre rigorosamente in diretta assieme al nostro Marco Cadeddu a Giovanni Zidda e alla possibilità di interazione in diretta con il nostro numero whatsapp 370-366-7210 vi ricordiamo anche gli ospiti della puntata questa sera avremo la guardia della VL l'islandese John Axel Gudmundson insieme all'ex giocatore della VL Giuseppe Ponzoni come detto appuntamento questa sera alle 21 e 20 in diretta e facciamo un passo e facciamo un passo avanti verso domani perché torna spazio Z i racconti della generazione Z i racconti della nostra Letizia Moretti che intervista gli studenti del territorio puntata di domani che va in onda alle 19 come prima edizione sarà dedicata alla seconda parte del liceo artistico Mengaroni dopo aver visto una prima parte nella puntata scorsa appuntamento come detto alle 19 prima replica alle 23 e poi tante repliche che vedete in grafica dal sabato al mercoledì ed è davvero tutto per questa edizione delle telegiornale vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata in compagnia dei programmi di Rossini TV